La prima riguarda la contestazione sulle imposizioni fiscali italiane a Trieste, quindi nella zona del territorio libero di Trieste. La seconda è quella più specifica che riguarda l'esercizio del diritto di cittadinanza dei triestini, quindi di tutti i cittadini del territorio libero di Trieste. Il Parlamento europeo ha già recepito la prima petizione, quindi quella sulla contestazione delle imposizioni fiscali italiane nel territorio libero di Trieste e questo anche molto semplicemente perché in base sempre al Trattato di Pace, che ripeto è tuttora in vigore, mai modificato e quindi unico strumento di diritto che ha valore nel territorio di Trieste, in base al Trattato di Pace, all'articolo 5 dell'allegato decimo, è stabilito che Trieste e il territorio libero di Trieste sono esentati dal pagamento del debito pubblico italiano. Quindi per l'Italia non è possibile imporre in questo territorio autonomo le proprie leggi e le proprie tasse, i cittadini di Trieste non sono obbligati a pagarle. Quindi il Parlamento europeo ha colto intanto questa prima petizione sulla base ovviamente di solidi principi di diritto internazionale che noi abbiamo sposto.